benvenuti alla prima puntata di CSI Danza il nostro appuntamento di oggi sarà accompagnato da un sottofondo di martelli perché come ho già raccontato nelle mie storie il mio vicino sta ristrutturando casa e quindi mi è impossibile registrare senza avere un sottofondo allegro che cos'è CSI Danza? è un appuntamento che terrò tutti i mercoledì nel quale racconterò e spiegherò un po' di luoghi comuni di retaggi culturali e di abitudini scorrette che ancora alleggiano nel mondo della danza oggi parleremo del ginocchio recurvato perché parliamo di ginocchio recurvato? perché settimana scorsa mi è stato segnalato da parte di alcune miei colleghe la pubblicità di un corso online, un corso in streaming che appunto pubblicizzava una serie di esercizi mirati a creare il ginocchio recurvato che cos'è il ginocchio recurvato? è quello che volgarmente viene chiamato il ginocchio a sciabola o anche impropriamente iperestensione del ginocchio perché è impropriamente iperestensione del ginocchio? perché tutte le ginocchia hanno dei gradi di iprestensione rispetto all'estensione naturale invece il ginocchio recurvato è un'eccessiva estensione del ginocchio posteriormente data da una lassità legamentosa cosa significa l'assità legamentosa? significa che se i legamenti che sono degli organi preposti a mantenere l'articolazione in sede sono più molli, più lassi rispetto al fisiologico l'articolazione non mantiene la sua naturale fisiologica posizione e ha dei raggi di movimento che non sono corretti e quindi diventano patologici noi sappiamo però che per un danzatore avere il ginocchio a sciabola è un vanto è un virtuosismo, viene considerata una cosa positiva sappiamo anche che molte persone hanno una lassità legamentosa congenita nascono già ipermobili, nascono già con il ginocchio recurvato, il gomito recurvato una lassità legamentosa generale della cocso femorale e anche della schiena bene, un conto è avere una lassità legamentosa naturale e quindi essere ipermobili naturalmente un conto è ricercare l'ipermobilità la ricerca dell'ipermobilità è assolutamente lecita per poter raggiungere alcuni obiettivi performanti ma deve avere dei limiti i limiti sono appunto quelli legati alla salute articolare nel momento in cui io vado a creare tramite esercizi forzati una lassità legamentosa e quindi una instabilità delle articolazioni creo una patologia questo significa che poi quella articolazione non tornerà mai più sana non tornerà mai più un'articolazione stabile perché una volta che il legamento è stato allungato eccessivamente quindi è diventato lasso non sarà più in grado di mantenere stabile quella articolazione ora tu capisci che lavorare sull'ipermobilità lavorare sulle ginocchia anche sulle caviglie, sulla schiena, su tutte le articolazioni e quindi sui legamenti che le tenono insieme è un lavoro estremamente delicato ed è un lavoro che va fatto ad persona cioè sulle persone che io ho davanti, sui miei allievi quindi consapevole di quello che possono e non possono fare della loro qualità muscolare della loro capacità di controllo delle articolazioni per poter sapere esattamente fino a dove posso arrivare senza fare danni fare un lavoro indiscriminato di ipermobilità e creare lassità legamentosa eccessiva su tutti gli allievi perché l'obiettivo è quello di raggiungere ginocchia requerbate anche sbilenche e schiene che fanno il giro del mondo è un lavoro criminale non è un lavoro da insegnanti non è un lavoro da persone consapevoli da persone culturalmente preparate e quindi diventa davvero pericoloso oltre a questo non abbiamo parlato del fatto che nel momento in cui io vado a creare un'instabilità di una articolazione di conseguenza cambio tutti gli equilibri e l'assetto dell'intera postura perché nel momento in cui il ginocchio va in iperestensione eccessiva il corpo trasla in diagonale avanti e quindi sposta completamente tutto il baricentro e non c'è più linearità delle articolazioni quindi bisogna stare veramente molto molto attenti primo a quello che si trasmette che si comunica agli allievi su difetti pregi qualità e bello e brutto secondo sugli esercizi che si fanno fare e su dove forzare per modificare degli assetti corporei vi aspetto la prossima settimana su un altro argomento caldo del mondo della danza